Da ottobre ad oggi in Toscana sono piovuti almeno 200 mm di acqua in meno rispetto alla media. Un terzo dell'acqua che piove di solito insomma manca all'appello, specie nella Toscana del Sud. Il presidente della regione Enrico Rossi ha annunciato l'invio al governo della richiesta di stato di emergenza nazionale. Questo permetterebbe di avere risorse per attuare i primi interventi emergenziali e anche di ottenere le deroghe necessarie per velocizzare la loro realizzazione. L'emergenza al momento interessa in maniera più pesante l'agricoltura, soprattutto quella delle zone sud della Toscana, Costa e Maremma, ma anche gli allevamenti potrebbero presto risentirne pesantemente. La crisi idrica non ha invece per il momento prodotto grandi effetti negli agglomerati urbani, protetti dalla presenza degli invasi di bilancine Montedoglio che sono a livelli al momento rassicuranti. Anche le dighe di Levane e La Penna e le dighe sul Serchio sono tutte a livelli adeguati. La brutta notizia è che la situazione non muterà di molto nei prossimi giorni, come spiegano dal Consorzio Lamma. Una perturbazione dovrebbe arrivare tra poco meno di una settimana, intorno a giovedì prossimo, ma sarà troppo poco, almeno per ora, per attenuare i disagi.